Cucchi BLT nasce nel 2013 dall'acquisizione della Pietro Cucchi SPA, un'azienda con una storia trentennale alle spalle nella progettazione e produzione di caricatori di barre per torni automatici plurimandrino e monomandrino. Con questa acquisizione Cucchi BLT è entrata a far parte di gruppo TAMAC, un'azienda internazionale con sede in Italia e con sedi produttive e commerciali in vari paesi del mondo. Per Cucchi BLT la scelta è stata quella di mantenere in Italia il cuore dell'azienda, così come tutte le attività di progettazione e di produzione. Il gruppo si è affidato da anni ai prodotti della PTC con una settantina di stazioni Crio e oltre un centenaio di utenti Winch. Abbiamo recentemente adottato Fingworth per affrontare in modo più strutturato ed integrato le richieste sempre più interessanti e affascinanti legate alla Smart Connectivity di processi e prodotto. La piattaforma Crio e Winchill, già largamente testata e utilizzata all'interno del gruppo da oltre dieci anni, ha portato anche Cucchi BLT ad adottare lo stesso sistema con ottimi risultati. Poter condividere i progetti all'interno del gruppo con la stessa piattaforma ha portato numerosi vantaggi in termini di efficienza e di tempo nella gestione delle commesse. Il primo effetto positivo è stato una maggiore dinamicità di sfruttamento dei dati, già a livello di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti, grazie alla possibilità di condivisione di tutta la documentazione di progetto in un unico ambiente, a cui tutti hanno accesso riservato e personalizzato a seconda delle necessità. L'utilizzo di Crio e Winchill ci permette di far fronte all'esigenza di poter partire da un progetto di base personalizzandolo secondo i requisiti specifici richiesti da cliente e realizzando un prodotto finale che ne massimizza l'impiego, mantenendo sempre sotto controllo l'intero ciclo di sviluppo.